Okaka Rete! Splendida rete! E questo gol, se mantenuto fino alla fine, consentirebbe di proseguire il cammino in continental camp. Hanno segnato una rete molto importante, potrebbe risultare decisivo. Questa rete conferma le sue eccezionali qualità, vede la porta come pochi altri. Non ci ha pensato due volte per tirare da quella distanza, scaricato in rete una bordata micidiale.